Non ci sono buone notizie per il trasporto pubblico locale, assessore Perferi, mancano le risorse, quindi sono necessarie scelte dolorose. Il trasporto pubblico locale credo sia sotto gli occhi di tutti, partiamo da agosto, manovrata rifaglia di agosto, meno il 75% di risorse sul trasporto pubblico trasferite alle regioni e agli enti locali, di conseguenza accaduta minori trasferimenti da parte della regione al sistema delle autonomie locali. Per quanto riguarda la provincia di Arezzo, noi come ente che gestisce anche in forma associata gli strumenti rispetto ai contratti, rispetto alle aziende anche per il comune di Arezzo, abbiamo operato delle razionalizzazioni di fronte a un minor trasferimento delle risorse, risorse di cui oggi abbiamo certezza fino alla fine di febbraio. Ma per l'entità delle risorse noi andremo a somministrare un obbligo di servizio a Etruria Mobilità solo per 18 giorni. Però queste minori risorse, già da regione sappiamo anche che saranno ridotte se non avvengono fatti nuovi e noi ospichiamo un nuovo tavolo allo Stato Regioni, saranno ridotte intorno al 2,5%, a cui va aggiunta l'inflazione, a cui vanno aggiunte altre voci. Questo fa sì che dovremmo andare a operare su base annua una riduzione del servizio in termini del 6,5%, circa il 6,5% dei chilometri prodotti. Per essere più precisi, nel 2011 per quanto riguarda l'extraurbano, cioè quello che compete alla provincia, sono stati prodotti poco più di 7 milioni di chilometri, quest'anno sarà una riduzione di 440 mila chilometri. Altre strade avremmo potuto percorrere, intanto stiamo incalzando fortemente la regione per il trasferimento delle risorse per tutto l'anno. Le altre strade avremmo potuto percorrere, che però non escludiamo di percorrere, una su tutte le allocazioni di risorse attraverso il bilancio della provincia, che è tutto dire di queste stagioni, però questa è una forte volontà, è un'assunzione di responsabilità da parte della provincia. L'altro avremmo potuto agire sulla manovra tariffare. Ecco, sulle tariffe noi abbiamo deciso, accordamente del Comune d'Arezzo, di fermare tariffe fino a settembre del 2012. Dopodiché stiamo lavorando, abbiamo già iniziato a lavorare con le conferenze servizi minimi per fornire i progetti, li abbiamo già forniti, a Regione per andare a effettuare la gara che dovrà intravedere una nuova forma di gestione del servizio, gara unica a livello regionale, bacino unico, dove ogni comune che può luogo ogni provincia concorre con la propria progettualità. Ma già dagli indicatori che avevamo avuto da Regione, noi abbiamo lavorato e progettato su ipotesi che rispetto al servizio attuale, per riduzione intorno al 30%, perché quello che sappiamo già le cifre che andanno a base di gara, la gara è stata già annunciata, il prebando, le risorse allocate sono 145 milioni di euro. Se li raffronto con quelli che forse avremo per il 2012, che saranno 200 milioni, che quelli che avevamo nel 2011 erano 205, nel 2010 erano 210, vi rendete conto che quello che avremo all'orizzonte, qualche nuvola lo porta con sé. Noi crediamo fortemente in una razionalizzazione del settore, ma pensiamo anche che la mobilità, e il diritto alla mobilità sia un diritto inagnellabile e fondamentale dei cittadini. Nei tagli abbiamo operato con criterio, con razionalità, salvaguardando soprattutto il servizio scolastico, salvaguardando il servizio per i lavoratori, andando ad agire soprattutto sull'estivo, nel periodo di prevestivi e festivi e purtroppo in qualche caso abbiamo agito anche nelle ore non di morbida ma di punta, laddove il servizio era articolato su tre corse, nella fascia 12, 13, 14, andando a eliminare la fascia di mezzo che fa sì che qualcuno purtroppo aspetti di più, ma comunque il servizio è assicurato.